è molto tempo che non ci vediamo, però mi guardo questo, vi trovo in ottimo stato di conservazione è sempre un grande benvenuti o bentornati sul canale oggi ci ritroviamo a masserano terra delle rive rosse e oggi siamo venuti a trovare tommaso buongiorno buongiorno come dicevo prima oggi prevostura giro xc oggi siamo in compagnia del ritrovato alberto buongiorno a tutti ciao antonio oggi sarà una stupenda giornata ce la godiamo tutta per intero alla grande come sempre adesso vediamo recuperiamo anche gli altri oggi gruppo numeroso che toni elio guy il gheppardo gianluca claudio e tommaso di mtd tour academy vi ricordo sempre che era una scuola grande grande giusto giusto spiega un po tu cosa fai facciamo corsi accompagnamenti sulle rive rosse posto bellissimo soprattutto d'inverno adesso apriamo la stagione esatto e comincia a fare un po più fresco percorsi percorsi spettacolari poi c'è la guida ancora meglio adesso elettrificato anche lui seconda uscita con le bike e questo è il mio secondo modo alla fine si è deciso ho dovuto cedere al lato oscuro della forza è così è così siamo partiti questo oggi sono in troppi oggi sono in troppi ne dovremmo eliminare qualcuno durante il percorso se non sopporto tanto a caso la selezione così random si oggi sarà tutto seguirsi di saliscendi questo è il percorso gara la settimana scorsa ho davanti la poianella classico uccello di bosco ti ricordo sempre iscrivervi al canale mettere un like al video qualche scorso panoramico lungo percorso la si può vedere masserano ecco uno e ben si incontra che incontreremo oggi faccio volevi provare la stabilità del copertone subito salita rampettina dove si crea sempre il tappo occhio la testa un attimo lasciarci le corna esatto toni è una voglia pazza di mazze di mazza di mazza singolare una mazza ne vuole solo una una bella sostanziosa ma una mesi vigneti wow figata qua mesi vigneti mesi canetti continuiamo con il nostro bel giro Alberto fino a un certo punto ce l'ha fatta adesso vediamo claudio che ha messo le ali claudio ha messo le ali ed è volato via voletus lecinum mentre vado in bici trovo lo cucini esatto non lo butti dietro anche tu però eccoli filare ad uno ad uno gli nostri atleti ragazzi no si fa dura tutti a fare tagliando cambio cambio dell'olio ripartiamo dove sto possendo queste box andale andale anche c'è una bella discesa ben sentito il track del bosco giro ci attre attra 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 Sì C'è 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 Chi si ferma è perduto Diggi Antonio C'è 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 Alla! Passaggio tecnico Vai! E vaffanculo! Non avevo il rapporto Ci sarà quello che è tornare indietro Molto Molto Altro guado Sì Oddio ai 10 Che rumore Sinistro F*** Che bel ripidini Sì Guarda che non l'hai stagionato Vai! Sì Sì Ma ha una sensibilità Sì Ecco E poi mollo Non mollare C'è detto Non mollare se non ti spizzi Vai! Sì Dopo l'ennesima salita Strappo Questa bella Questa bella Discesa Scorrevole Sì 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 Forza Forza dentro Decisi Che fredda È calda l'acqua Dentro deciso Che calda Fai che piatto Fai che piatto Un po' polveroso Un po' polveroso No Fammi parlare Prima della discesa Abbiamo appena fatto una discesa A dire poco mitica Per poi La salita mistica invece Ho visto la Madonna Io Io San Giuseppe Mentre invece la salita Era qualcosa di Orribile Dovrebbe mancare l'ultima salita Per cui Sono a 1186 In conseguenza l'ultima discesa Denunciati da Medieval 840 Questo Questo video non ci trovo io Adesso sì E per forza sei sempre avanti Adesso sto alle calcagna Quando mi chiede le calcagna io cado No No beh qua è quasi impossibile Minchia Che dritto Che dritto Vai Vai Ultima discesa Verso la macchina Molto polveroso Ultima discesa Definitiva Un bel giro Abbastanza faticoso eh Devo dire Ci sono degli strappi Belli tosti Bella 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 Beh sì ma adesso te la ferno Bella bella Moderno Il 10 km in Allora dopo la seconda bottiglia di vino di Pramaterra, che è qui per terra, ringraziamo Claudio, Gai, Elio, Gianluca, detto il Ghebardo, Tony, 53 km, poi va bene, ognuno dice la sua, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like e ci vediamo al prossimo video, ciao!